Ciao a tutti, nel video di oggi vi mostrerò gli acquisti che ho fatto da Gea Creation in realtà questi li ho acquistati su Instagram perché ogni tanto Gea pubblica gli acquisti di stampi B-Grade quindi c'era un lotto di stampi B-Grade che a me interessava e piaceva e poi ne ho approfittato per comprare anche qualche pigmento sul suo sito lei vende sul sito pigmenti di reschimica allora dovrebbe esserci anche il bigliettino da qualche parte con quanto speso ok quindi questo è il bigliettino di Gea Creations per chi di voi non la conosce è fatto così e la spesa totale è di 21,50€ di tutta la roba che ho comprato qui allora ho preso dei pigmenti e c'è questo qui Pixis di reschimica e vedete è questo pigmento sul viola con varie interferenze poi ho comprato sempre pigmento questo qui che si chiama La Certa che è sul verde, verde-giallo ok poi ho preso questo qui con Violet che è fosforescente sui toni del viola e poi ho preso questo qui che è Orange Red e questi erano i pigmenti e poi ho acquistato vari stampini allora nell'otto c'era questo stampino molto estivo vedete con queste tre sagomine la stella marina, il cavalluccio marino e questo pesciolino poi c'era questo stampo molto bello con questa foglia grande vedete quanto ho la mia mano e poi tutti questi stampini piccolini da poter utilizzare come acchiappascarti poi questo stampino natalizio con questi fiocchi di neve eccoli mi sembra... io avevo solo questa forma le altre tre sono forme nuove almeno per me poi questa sagoma di finestra gotica che mi piaceva molto la volevo acquistare già da un po' finalmente l'ho presa e l'andrò a colare e vi farò vedere il risultato poi questa nuvoletta sembra la nuvoletta di Dragon Ball eccola qua o di Naruto poi abbiamo... questo era tutto il lotto io in realtà l'avevo già aperto per controllare ed abbiamo anche questo stampino righello vedete con i numeri metti a fuoco c'è il logo anche qui di Gea e tutti i numeri molto carino poi abbiamo queste due sagome di lanterne che sono curioso di culare e di inglobarci magari anche dentro qualche bambolina poi queste tre sagome a circolari già forate che sono utilissime per le creazioni con gli stickers o con i fiori le avevo già a cuore ma mi mancavano queste qui rotonde poi questa sagoma di un calderone carina più per degli stickers ma mi reinventerò come usarla questa sagomina molto profonda vedete si possono inglobare delle creazioni a forma di cuore e ci sono varie forme in questo lotto c'era sia questa circolare bella profonda che è questa qui a forma di cuore per andare a inglobare bamboline o altro utilissime e le proveremo insieme e ultimo stampino è questo qui con queste sagome di per fare tipo porta chiavi con la scritta degli animali con degli stickers o altro o dei collarini per per gli animali ed è molto carino queste erano le creazioni sul sito di Gea magari ora vi mostro lo scopriamo con questi stampini o con parte di questi a tra poco ciao a tutti ecco il video scopriamo le creazioni di Resina con gli stampini che vi ho appena mostrato dall'unboxing di Gea Creation come vedete non li ho colati tutti ma soltanto alcuni sono tutti stampini bigrade di Gea ma secondo me sono tutti stampini che non hanno dei difetti da bigrade comunque iniziamo da questo qui iniziere da tutti questi piccolini che mi piacciono molto quindi mi piace che uno stampino abbia tutte queste piccole forme per occupare lo spazio quindi c'è questo primo cuoricino bicolore provo a mettervelo a fuoco fatto così con due colori metallizzati della Resin Pro poi abbiamo una fogliolina ok fatta così molto semplice col marrone poi un altro cuoricino con il marrone tipo cioccolatoso vedete poi ancora cuoricino col blu e sono degli acchiappascarti questi eccolo poi abbiamo un'altra fogliolina con questa specie di oro e ci sta molto bene secondo me nella fogliolina poi abbiamo un altro cuoricino fatto così con dei glitter poi questi li ho fatti tutti uguali e ho usato due colori fosforescenti della Reschimica il giallo e l'arancione e questo è l'ala poi ho fatto uguale la farfallina allora eccola dovrebbero vedersi le differenze tra l'arancio e il giallo ecco poi uguale ho fatto anche questo fiorellino Sakura e quest'altro cuoricino ce la posso fare ok ve le mostro tutte e quattro quindi questo è il cuoricino e questo è il fiorellino e sia sono tutti con gli stessi colori anche se forse da fotocamera non si notano tantissimo e mi piacciono sembrano molto caramellosi poi ne ho fatti due a tema Harry Potter ci ho inglobato un un glitter qui è il glitter dei doni della morte con il dorato io ho fatto lo sfondo di questo bordeaux in tema grifondoro è carino lo posso usare tipo come combo con magari un orecchino a bambolina di Harry o di Hermione o di Ron e gli posso abbinare questo qui e ne ho fatto un altro simile qui sempre con i colori di grifondoro ma questa volta all'interno ho inserito questo glitter del boccino d'oro tema quidditch ok e poi diciamo la creazione principale di questo stampino è questa mega foglia che ho fatto su due strati quindi c'è uno stickers e c'è anche dell'altro che ora vi mostro già si intravede c'è della foglia oro anche e vediamo il risultato è così quindi ho messo foglia oro questa stickers di farfalla e poi ho fatto lo sfondo col bordeaux per fare tipo una foglia autunnale vedete è un bordeaux metallizzato anche questo era un colore mica della resin pro mi piace molto l'ho utilizzato anche in altre creazioni qui lo scopriamo ed è fatta così fatemi sapere cosa ve ne pare a me piace molto e questo era il primo stampino di gea sono tutti i stampini che ho comprato non c'è nessuna sponsorship con gea poi c'è questo calderone che ho cercato di fare a tema Harry Potter non so se sentite un po' smr e qui ho fatto tre colate che andremo a vedere eccolo allora ho fatto una prima colata con il bianco per fare il davanti poi ho fatto una seconda colata trasparente per mettere questi glitter e questo stickers hp che è comunque col bianco e col dorato e qui ho messo tipo questi glitter di questa forma per fare tipo la pozione non lo so volevo provare poi ho messo un cappello parlante e un altro boccino d'oro e questa è la creazione finale sulla quale magari si può fare una bambolina o un paio di personaggi e non mi dispiace comunque questo è lo stampino fatemi sapere se questa creazione vi piace come l'ho realizzata ok e questa era il secondo stampino poi passiamo al terzo semplice questa nuvoletta che ho fatto traslucida quasi perlata vedete così anche questa è carina per realizzarci magari qualche fatina sopra o qualche personaggino è molto piccola ed è simpatica e questo qui è lo stampino poi altra creazione un po' fuori tema è questa qui con questo stampino estivo dove ho fatto la stella marina con sfondo rosa e dettagli con questo verde metallizzato vanno poi terminati gli occhietti e la boccuccia è fatta così è simpatica mi piace questo rosa rosa e verde secondo me è una buona combo poi pesciolino l'ho fatto tipo flanders della sirenetta vedete con questo celeste e col giallo e anche qui è da fare meglio l'occhietto penso lo farò col nero ed eccolo il secondo e infine ho fatto il cavalluccio marino con vari colori un paio di viola e gli stessi dettagli col celeste del pesciolino e anche qui poi va rifinito l'occhietto comunque è così mi piace anche come si sono sfumati i due viola e questo è lo stampino diciamo marittimo carino simpatico mi piace molto poi andiamo con uno stampo più a tema è questo qui con i fiocchi di neve io ho fatto qualche esperimentino allora scopriamo il primo che è proprio il più semplice che ho fatto come vedete tutto trasparente perché c'aveva molti dettagli opachi e quindi ho voluto provare a farlo trasparente e vedere il risultato è così magari posso provare a colorare qui la parte diciamo opaca e vedere poi il risultato anche se trasparente non mi dispiace ne faccio pochissime di creazioni trasparenti questa mi piace vedete totalmente trasparente e questa è la formina del primo fiocco di neve poi questo l'ho fatto su due colori in realtà è molto semplice perché il primo strato è col celeste e il secondo è con questo bianco c'ha qualche fettino questo bianco ma niente di che ed è fatto così aspettate questa è la direzione giusta spero che si noti anche qui comunque ci sono pochi dettagli lucidi e la maggior parte del fiocco è opaco eccolo qui poi terzo un po' più particolare è con del trasparente mischiato a della resina blu perlata e vediamo un po' eccolo mi piace molto questo questo è il risultato e secondo me è molto simpatico e non sono dei glitter è un pigmento della reschimica che dà questo effetto e mi piace vedete avevo lasciato la parte centrale più trasparente e i laterali con questo blu che va poi a sfumare nel trasparente e questa è la creazione poi ultimo fiocco di neve dove ho provato a fare un esperimentino quindi ho fatto varie colate una prima dove ho inserito varie cozzoline di resina bianca traslucida e dorata e poi ho fatto uno sfondo col bianco in realtà i giochi si notano poco quindi forse ho sbagliato a fare lo sfondo anche bianco dovevo farlo di un altro colore più a contrasto comunque è questo il fiocco e la creazione comunque non mi dispiace non è come la volevo come me l'era immaginata ma è carina questo video sta durando troppo questo era lo stampino dei fiocchi di neve poi passiamo a questa finestra gotica che ho cercato di farla il più possibile gotico quindi ho fatto ho usato dei pigmenti e ho fatto vari strati con colori diversi dai secondo me ci può stare fatemi sapere cosa ne pensate comunque vedete ho giocato con questa resina dorata che è la stessa di questa fogliolina quindi mi era avanzato un po' e l'ho colata qui poi ho usato in realtà due pigmenti uno viola e uno verde che sembra dorato ma è verde vedete qui in mezzo e poi ho coperto tutto con la resina nera e secondo me è molto carina mi piace forse qui si nota che è verde vista vedete è un pigmento sono dei pigmenti della reschimica chameleon che fanno questi giochi di colore e mi piace molto questa creazione sì sì bella è riuscita la volevo così poi ho realizzato questi con degli stickers comprati da Primark allora c'è il primo che è con Ron vedete quello è lo stesso bordeaux della foglia e ho ingolobbato questo stickers di Ron e dei glitter a tema quindi un dono della morte e due boccini mi piace eccola qui la prima poi seconda creazione è Harry fatto così ho miscelato sia il bordeaux che il dorato per ricordare i colori di Grifondoro e anche qui ho messo due glitter del boccino c'è Harry con Edwige eccolo anche questo è uno sticker di Primark avevo comprato tipo per due ore e cinquanta un set con tutti i stickers di Harry Potter e l'ho ingolobbato uno anche qui dentro dove c'è tutto sfondo dorato e all'interno c'è la terza del golden trio ermione con una piuma e queste sono tutte le creazioni di questo stampino il golden trio con questi colori tutti abbinati e mi piace e infine ultima creazione ho fatto un po' di disastro in questo video ok e questo righello con lo stesso colore di sfondo bordeaux e ho inglobato anche qui stickers a tema di Primark eccoli simpatica mi piace allora ho inserito un boccino d'oro la scopa uno stickers come gli altri che avete visto nelle altre creazioni poi uno stickers di Harry solo la faccina due pozioni e un cappello parlante e qui poi vedete ci sono tutti i dettagli da rifinire sui numeri del righello e questo è un righello per la scuola davvero davvero bello mi piace fatemi sapere quali delle creazioni è la vostra preferita e vado a terminare i dettagli e ve le mostro magari ultimate a tra poco ciao ho terminato le creazioni non sono andato a colorare in tutti i dettagli perché alcune mi convincevano così come erano qui ho colorato come vedete col bianco i dettagli del righello e devo dire che mi piace davvero tanto sia proprio la forma il righello mi mancava e anche come l'ho creata sono contento mi piace quindi questa è la prima modificata poi ho modificato qualcosa di piccolino sempre con il bianco giusto queste qui vedete le ho terminate in questo modo e ultime creazioni modificate ma proprio di pochissimo ho fatto solo l'occhietto sono queste tre allora anche qua niente di che ho fatto soltanto il dettaglio con il nero dell'occhietto della boccuccia e queste sono le creazioni terminate le mie preferite di questo video sono mi piace molto il cavalluccio la finestra gotica e questo qui quindi il mio preferito è questo primo secondo e terzo e fatemi sapere quali sono le vostre creazioni preferite nei commenti se il video vi è piaciuto mettete un like così mi aiutate a crescere e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale ciao e alla prossima grazie a tutti